Adesso tocca a te, ti lanci in aria, controlli e calci al volo, facciamo l'azione giusta, è così che si vince. Per me ricerca il tuo sms è una fine di tele, come al San Diego, invia un sms al 45508 da team Vodafone 53 per donare 2 euro. O chiama a pole con fisso telecomatario, a sulle strada per donare 510 euro. In occasione della giornata per me ricerca sul canale, aiutaci a fare gol, chiama il mio sms al 45508. Se giochiamo insieme siamo più forti, anche contro il cancro. In occasione della giornata per me ricerca sul canale, aiutaci a fare gol, chiama il mio sms al 45508 da team Vodafone 53 per donare 3 euro. In occasione della giornata per me ricerca sul canale, aiutaci a fare gol, chiama il mio sms al 45508 da team Vodafone 54 per donare 3 euro. In occasione della giornata per ne ricerca sul canale, aiutaci a fare gol, chiama il mio sms al 451 euro. No, non è nelle moderna opposte, le vor ne riep sul canale, aiutaci a fare gol, chiama il mio sms al 373 vuoto e giama il mio sms al 451 euro. I tormenti e le domande A stare bene, a stare male A torturarmi, a chiederti Perché? La differenza tra me Tu come sarai E io come sarai tu E io sono E io sono E io sono E io sono E questo sia un errore E io E io E io sono Grazie a tutti. Grazie a tutti.